Due le idee libere per un unico progetto fatte da due regioni, l'Abruzzo e le Marche, il cui obiettivo è di risolvere il problema di profonda crisi del Marcuzzo, e cioè la zona di confine tra Marche e Abruzzo. E questo è l'obiettivo prefissato dall'unione di queste due regioni, ma ancora non si hanno notizie da parte del Ministero a cui aspetta l'ultima parola affinché quest'area riprenda il respirare. È un fatto storico perché non sono dentro l'accordo, ma hanno realizzato due delibere, quindi due atti legislativi già pubblicati sui rispettivi bollettini. Adesso però il problema è che il Ministro convocchi l'incontro per decidere se l'area della Vibrata e del Piceno sono un'area, un'unica grande area complessa e di crisi, oppure ci dicono che no. Il fatto è che fino ad oggi non ci ha convocato, non conosciamo le schede di fattibilità, non conosciamo che cose sta facendo e i tempi non sono neutri rispetto alle nostre imprese. Se il Ministro firmasse oggi noi potremmo dire alle imprese questo è lo strumento, questo è il pianoforte, possiamo cominciare a suonarlo. Non è detto che la sala si riempirebbe di pubblico, in questo caso di occupati, ma questo strumento metterebbe in movimento nei prossimi tre anni 521 milioni di euro e darebbe la possibilità di oltre 10.000 occasioni di lavoro. E sarebbe anche propedeutica il fatto che dal 2013, quando arrivano soldi europei nuovi, non questi che dobbiamo utilizzare adesso, noi abbiamo già lo strumento, perché dal 2013 si finanzieranno soltanto le macro aree, questa ne è una. Quindi gli imprenditori avrebbero possibilità, non solo, ma questo accordo prevede, per legge e quindi il Ministero firma, prevede che il Ministero ricerchi tramite la sua agenzia nuove occasioni imprenditoriali per questa provincia e ovviamente anche per quelle del Piceno. Cosa non indifferente, perché loro per mestiere fanno questo. Poi questo è uno strumento che prevede soldi per innovazione tecnologica, innovazione produttiva, internazionalizzazione, ricerca, quindi anche lavoro buono, buono per giovani, meno precarietà, più lavoro. E far rientrare in fabbrica quelli che purtroppo stanno ancora tantissimi fuori e dare una speranza di lavoro anche a chi non sa come tirare avanti, perché stiamo vivendo tempi davvero duri.